La città di Castellabate piange la prima vittima del Covid. L'uomo, un ex finanziere ben voluto estimato da tanti, era stato ricoverato la settimana scorsa al Covid Hospital della città di Agropoli nel reparto di terapia intensiva a seguito del riscontro della positività al coronavirus. Il suo quadro clinico però si è aggravato anche a causa delle patologie pregresse e il virus noi ha lasciato scampo. Apprendo con immenso dolore e tristezza della morte di un nostro concittadino sottratto dal Covid all'affetto della sua famiglia e della nostra comunità. Un uomo per bene, riservato, di grande umanità. Ci stringiamo con profondo affetto alla sua famiglia a cui rappresentiamo il nostro più sentito sentimento di vicinanza. Questo è il messaggio di cordoglio del sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri. Apprendo con profondo rammarico e dolore la scomparsa del caro amico Antonio Simonelli. Mi legavano a lui la fede, il rispetto, la stima e una sorta di complicità ecclesiale e culturale. Così il parroco di San Marco di Castellabate, Don Pasquale Gargione, ha voluto ricordare in un post su Facebook il legame con Antonio Simonelli. Ho avuto l'onore di condividere purtroppo gli ultimi momenti della vita della sua cara figlia Melania con la celebrazione della messa a casa sua insieme all'allora parroco Don Luigi. Spesso poi partecipava alle celebrazioni eucaristiche nelle mie parrocchie ed era sempre pronto, nonostante la sua riservatezza, ad avere parole di stima e di incoraggiamento. Il comune di Castellabate perde innanzitutto un uomo di fede dalla quale è scaturita la sua cultura e i suoi scritti, oltre le qualità umane che tutti conosciamo. Sembra quasi rientrata inoltre la fase di contagi sul territorio di Castellabate. Sono già due giorni che il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, non comunica nessun nuovo contagio. Una situazione che fa ben sperare di ritornare presto alla normalità per tanti cittadini che si sono visti velocemente ripiombare in un secondo lockdown a causa dell'elevato numero di persone positive. Da oggi alcune delle misure restrittive sono state allentate, anche se il comune resta comunque zona rossa.